Quando uccise la madre soffocandola con un cuscino, era in preda ad un delirio violento scatenato dal disturbo schizzo affettivo di cui soffre. Non era quindi capace di governare le sue azioni e per questo Manuele Andreini non può essere processato. Il 47enne, operaio di Calbenzano, dovrà essere così curato e vigilato in una struttura di cura per casi psichici. Questa la conclusione a cui è giunto il dottor Massimo Marchi, esposta nella sua relazione al giudice Stefano Cascone, presente all'udienza anche il 47enne, scortato dalla polizia penitenziaria. Il GIP del Tribunale di Arezzo ha così riconosciuto il vizio totale di mente per un disturbo di cui soffre. Adesso per lui si apriranno le porte di una struttura residenziale e psichiatrica di secondo livello, dove vivrà in un regime di libertà vigilata e dove riceverà le cure del caso, con l'obiettivo di intraprendere un percorso che sia allo stesso tempo terapeutico e riabilitativo. Era la notte tra il 13 e il 14 ottobre, quando l'uomo uccise la madre, 87enne. Dopo l'omicidio chiamò lui stesso i carabinieri e per lui scattarono immediatamente le manette per omicidio volontario. C'è molta rabbia tra gli operatori, gli operatori sono piuttosto abbattuti anche di questo fatto, perché comunque è l'ennesimo. Torna a chiedere più sicurezza il sindacato della polizia locale, un appello che arriva a seguito di un'aggressione ad un agente. Il personale, soprattutto quello territoriale, è quello maggiormente esposto, perché comunque sono a piedi in tutti i quartieri, in tutte le zone della città e quindi sono il primo approccio anche verso questi episodi di microcriminalità. Tutto era iniziato lo scorso sabato, quando un trentenne aveva denunciato ai carabinieri di essere stato strattonato ed aggredito nel quartiere di Saione. Ieri la vittima ha riconosciuto il suo aggressore a campo di Marta ed ha chiamato la municipale. Gli agenti sono andati ad identificarlo e l'uomo per tutta risposta ha aggredito anche i vigili, che hanno dovuto chiedere l'intervento di un'altra pattuglia per bloccarlo. L'uomo è stato arrestato per il reato di resistenza. Purtroppo anche con l'ausilio di altri colleghi non ha potuto evitare lo scontro fisico, perché questo ormai è all'ordine del giorno. Quando hai un contatto e cerchi di immobilizzare una persona, il contatto fisico è inevitabile. Vittima dell'aggressione, un agente della Polizia Municipale, finita in ospedale al San Donato con vertebre incrinate e 30 giorni di prognosi. Anche altri agenti sono stati bersaglio di percosse e non hanno comunque riportato conseguenze tanto serie quanto la collega. Non abbiamo visto nessun miglioramento, le condizioni lavorative sono sempre più difficili, il lavoro sulla strada aumenta, gli agenti sono sempre più in difficoltà. Però questo non va di pari passo con la sicurezza che viene molto spesso a mancare. Siamo in forte affanno per quanto riguarda le dotazioni delle quali, nonostante gli sforzi del nostro comandante, che è sempre stato dalla nostra parte per cercare di migliorare le condizioni, ma purtroppo non dipende da lui. C'è infine ancora attesa per il taser. Una cosa riproposta negli anni, per la quale forse qualcuno pensava anche che fosse stato fatto, ma di fatto ad oggi non è così. Ancora bocconi avvelenati ritrovati nei parchi aretini in tutto 11, quelli che sarebbero stati ritrovati nella zona del parco della Marchionna. Sono stati subito avvisati i carabinieri forestali e le guardie zoofile di Oipa, ma nella zona poi non ci sono stati altri ritrovamenti, nonostante il pattugliamento effettuato dai carabinieri forestali con le unità cinofile. Le persone con ogni probabilità le hanno buttate. Ricordiamo alla popolazione di Ceoipa che le esche avvelenate non devono essere buttate e se è possibile vanno fotografate. Primo perché comunque potrebbero essere ancora pericolose e quindi ritrovate e ingerite, e poi per capire di che cosa sono composte. La cosa immediatamente da fare è di avvisare i carabinieri forestali. Episodi comunque davvero frequenti e intanto il Comune di Arezzo ha raddoppiato il nucleo operativo degli agenti di Polizia Municipale, la speciale divisione che si occupa proprio di contrastare il fenomeno del maltrattamento e dell'abbandono di animali. Dunque noi abbiamo raddoppiato il nucleo operativo degli agenti di Polizia Municipale, da due adesso sono quattro, quindi anche loro sorvegliano per eventuali maltrattamenti e anche in questi casi. E poi abbiamo l'OIPA che sono le guardie zoofile, che sono il nostro occhio vigile sul territorio. Purtroppo non possiamo prevedere quando queste persone, io li chiamo delinquenti perché fanno queste cose orribili, perché poi non sono pericolose soltanto per gli animali, ma possono essere pericolose anche per dei bambini, per delle persone. Mettiamo una mamma che in quel momento è un po' disattenta e il bambino prende questo boccone, da terra. Posso immaginare quello che può accadere. Intanto è un bilancio che non prevede l'aumento della pressione fiscale, nonostante la situazione le esigenze siano molte. C'è bisogno di risorse per quanto riguarda la sanità, che chiude i conti comunque in sostanziale pareggio, ma dobbiamo pensare che tutto quello che consentirà di realizzare PNRR, quindi le case della comunità, gli ospedali della comunità, investimenti in telemedicina. Poi avranno comunque bisogno anche di professionisti che possano lavorare per far funzionare questa sanità territoriale che noi abbiamo dato indicazione anche a conclusione degli stati generali e della salute di dover rafforzare. Poi c'è il tema di professionisti, alcune specializzazioni mediche dove ad oggi non è possibile reperire professionisti e c'è l'aumento del costo dell'energia che grava sui conti della sanità regionale per circa 130-140 milioni. Di fronte a queste esigenze purtroppo dobbiamo fare i conti con una legge di stabilità del governo che per come è stata presentata invece riduce le risorse per la sanità pubblica. La Toscana è una delle regioni che ha forse la sanità pubblica più pubblica che esiste nel nostro paese, a servizi più diffusi. Quindi questo è un grave problema e io spero che in Parlamento riusciranno a correggere questa manovra del governo perché c'è bisogno di far fronte alle maggiori spese che sono appunto quelle di un contrasto alla pandemia che è rallentata ma ancora non è definitivamente sconfitta. Aumenti del costo dell'energia, maggiori professionalità che hanno bisogno di entrare a gestire i servizi che in Toscana stiamo pensando di dover mettere a disposizione dei nostri cittadini. La città oggi ha tutte le chiavi che consentono di aprire le porte che ci possono consentire di far crescere la città ancora. Così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella conferenza stampa di fine anno, un bilancio positivo, quello del 2022 secondo il primo cittadino. Eppure Arezzo è oltre la cinquantesima posizione nella classifica delle province italiane, secondo il Sole 24 ore e la vicina Siena è quarta. Le zone periferiche sono sempre più dimenticate, ci raccontano residenti e commercianti. Di poche ore fa anche l'invito di Valeria Alvisi di allargare la pur meritevole iniziativa della città del Natale anche ad altre zone della città che altrimenti rischiano di essere solo un parcheggio. Per non parlare poi della sicurezza, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, c'è stata un'escalation di furti e micro e macro criminalità che fa davvero molto preoccupare. Devo dire che la nostra attenzione è massima, il sistema di controllo e di repressione che fa capo al Comune è attivo. Non è attivo 24 ore su 24, sapete che uno degli obiettivi che abbiamo è proprio quello di renderlo attivo per 24 ore su 24 acquisendo nuovo personale, però insieme alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza lavoriamo e continueremo a lavorare ancora di più per cercare di ridurre questi rischi che oggettivamente ci sono. E poi il tema dei temi per ogni amministrazione comunale, le buche, che adesso in alcuni punti della città sono diventate davvero voragini. Io ho chiesto pazienza perché in questo momento la struttura amministrativa e tecnica del Comune è ventre a terra, lavorare sul PNRR che è il nostro obiettivo immediato perché sapete tutti che si deve chiudere entro il 2026. Quindi progetti, affidamento dei lavori, gestione dei lavori. Non appena potremo allentare la pressione su questo avremo le risorse anche umane per poterci dedicare a una manutenzione che si configura a questo punto per certi pezzi di strada addirittura straordinari, non più ordinari. Le persone mi chiedono nelle produzioni spesso, dice, ma come avete fatto da Arezzo? Perché di solito il cinema e le pubblicità sono a Roma e Milano. In questo caso da Arezzo, dove non è connesso diciamo in qualche modo, siamo riusciti ad emergere, farci conoscere e apprezzare nel mondo della cinematografia. Sono partiti da Arezzo ed hanno sorvolato i set a più ambiti. Solamente l'ultimo di una lunga serie di impegni nel cinema è stato quello con il documentario Dietro la scienza di Avatar, sempre con il regista James Cameron. È un documentario che ci ha fatto girare diversi posti nel mondo, bellissimi, interessati. Quindi, che dire, è una soddisfazione poter lavorare per James Cameron a questo progetto. Drone Arezzo è lanciatissimo nel grande schermo e molto apprezzato anche nelle produzioni straniere. Possiamo dire un paio di progetti importanti a cui abbiamo lavorato, come Fast and Furious 10, adesso stiamo lavorando a Equalizer 3 con Denzel Washington. Abbiamo fatto un film, The Old Guard 2, con Charlize Theron e Uma Thurman. Drone Arezzo adesso festeggia gli importanti traguardi raggiunti ed anche una nuova sede. Grazie a un lavoro di squadra che abbiamo fatto, sacrifici in questi anni, questa sera ci godiamo questo nostro piccolo traguardo, speriamo che ce ne siano comunque altri, non sarà l'ultimo, però siamo molto fieri di inaugurare questa nuova sede che ci dà la possibilità di avere più piacere a continuare a cercare nuovi traguardi, anche semplicemente arrivare al lavoro in un ambiente più accogliente, oltre che gli spazi che aumentano e ci permettono di organizzare meglio il lavoro. Iari a margine della vittoria dell'Arezzo contro il Poggi Bonzi c'è stata la conferenza stampa di Paolo Giovannini, direttore generale a Maranto, il quale ha prima fatto gli auguri alla stampa e poi ha annunciato nuove entrate nel corso del mercato invernale. Abbiamo già una strategia ben deleata con Nello questi giorni, verrà un attaccante che accompagnerà Gucci, del quale sono molto contento, sentiamo anche la sua volontà, non necessariamente deve partire, comunque un altro attaccante viene, sono contentissimo di Niccolò, sapevo e sapevamo e forse sapevate da esperti di calcio, perché credo che siamo in una piazza importante che aveva bisogno comunque sia di due o tre settimane che erano già state messe in primo intimo da me e poteva arrivare tranquillamente il 27 e avrebbe fatto un lavoro diverso e forse l'otto sarebbe stato subito pronto. Abbiamo deciso di prenderlo subito, a scapito anche di andare incontro a qualche critica, come è normale che sia quando un attaccante magari non segna, io invece sono convinto che Niccolò arriverà in doppia cifra, arriverà un altro attaccante che lo accompagnerà e che secondo noi permetterà anche al mister di poter schierare a seconda dell'avversario, a seconda dell'atteggiamento tattico, a seconda della lettura di una partita, anche di poter giocare con un modulo diverso da quello che abbiamo fatto per tutto il girone d'andata, di questo ne parleremo insieme al mister. Comunque un attaccante sicuro, un terzino destro che abbiamo già praticamente non individuato nel soggetto, cioè ne abbiamo due o tre, dobbiamo stabilire, arriverà dai professionisti, quindi se sarà qua al 27 lo sarà solo con nulla vostra per allenarsi e poi sarà con noi a disposizione dal 2 gennaio, però insomma abbiamo battezzato che la quota del 2004 sarà un terzino destro che andrà a fare coppia con Pricolini e non ci dimentichiamo di Stopponi perché si fa questo anche a dimenticarci, ora c'è una distorsione, oggi non ha potuto far parte dei 20 convocati ma è un giocatore del nostro settore giovanile, è un patrimonio e creare il trio del 2004 con un ruolo battezzato ben definito, cioè il terzino che sia Pricolini, che sia quello che andremo a prendere, che sia Stopponi, quindi ne avremo addirittura tre e non è un mistero che stiamo trattando con Nello per il 27 che sia subito qua con nulla vostra, Arduini, un centrocampista del 2003 molto forte che andrà ad aggiungersi ai vari Damiani e Bianchi, non sapendo Damiani l'identità dell'infortunio quando c'è, ma proprio per il discorso che Nello mi ha suggerito un settimana, insomma di non essere proprio completamente risicati, quindi Arduini praticamente sarà un giocatore in più, perché comunque sia se prendiamo la quota del 2004 al posto di Dema, che possiamo già dirlo, Nello è in uscita, domani verrà fatto il trasferimento al Terranova Bracciolini, quindi è un ragazzo che ci ha fatto molto comodo, un ragazzo di nostra proprietà, che credo che se va a Terranova avrà più possibilità di dimostrarci anche a noi quanto poi possiamo crederci in futuro, quindi sono sicuro che avrà più spazio che non insieme a Damiani, Arduini e Bianchi e quindi l'arrivo di Arduini non lo do quasi per certo, perché poi naturalmente nel calcio il trasferimento, Gianluca mi corregge, ma insomma col professionisti fino al 2 gennaio formalmente non si può scrivere anche se c'è già un accordo di massima col procuratore e con il ragazzo, il terzino destro con Nello ne abbiamo visionati un paio e credo che si vada anche lì per una definizione in terpi rapidi, per l'attaccante ci prendiamo qualche giorno. Ma ringrazio per i professionisti l'attaccante? Se non succede niente di clamoroso in questi due giorni, perché il mercato di direttanti poi ha perso soltanto il 22 e il 23, cioè domani e domani l'altro, quindi dovrebbe essere l'occasione della vita e dovrebbe essere il giocatore che è di gradimento ad indiani, ci sono dei nomi che indiani ci ha fatto, ma non è detto né che la società proprietaria ce lo ceda e non è nemmeno detto che noi si possa trovare la quadra, i nomi noi li abbiamo già, non è che non abbiamo dei nomi che il 27 o il 2 gennaio possano essere qua con noi, questo ci tengo a precisare, poi è chiaro se ci sarà da aspettare una o due settimane perché hanno già giocato nei professionisti, questo lo valuteremo se sono giocatori quelli che abbiamo scelto qualcuno di questi le prime due giornate, non ci sarebbero, però pensiamo che poi ce ne sarebbe altre 15, non ci folizziamo nello sbagliarlo o comunque sia nel non accontentare il mister nello scegliere uno per una partita barra due.